La nostra è una tradizione millenaria, tramandata di padre in figlio. Noi non coltiviamo la terra, ce ne prendiamo cura con passione. Ti portiamo nell'orto di Eleonora per farti vedere da vicino dove nascono le nostre fragolose. Le controlliamo per l'intero processo di crescita fino alla fase di raccolta, selezionando solo le migliori per garantirti sempre un prodotto freschissimo e di qualità. Fragolose! Più buone, più dolci, più sicure! Grazie a tutti!